Abbiamo fatto questo evento grazie anche a Wine Circle, i soci di Ben Surgery sono Florenza Meciara e Eugenio La Fratta e hanno un'altra società che è Wine Circle con Alessandro Auletta. La loro affascina per il vino, che sono entrambi appassionati del vino e appassionati di Positano, perché Auletta ha una casa qui da una vita, praticamente conosce tutta Positano, hanno parlato di questo progetto insieme al sindaco, il sindaco ha appassionato totalmente il progetto e finalmente dopo un po' di discussioni, un po' di anni. Anche perché qua si è verificata una situazione gianica nel senso di fronte, di facciala, costituita dal fatto che non solo una serie di avventori, una serie di turisti stranieri e locali si sono fermati all'assaggio, a curiosare, a sapere, hanno comprato i tassi, i ticket, ma anche gli albergatori si sono chiesti ma chi è il distributore di questo champagne? Ma chi è il distributore di quel fassolino? Quindi sia per quanto riguarda gli utenti e sia per quanto riguarda i produttori di Oshkitan Kama possiamo parlare di un freddo, c'è un dato diverso e di sconto. Assolutamente, assolutamente, sono state anche molto interessanti, volevo aggiungere le masterclass che si sono tenute sul comune di Positano, da venerdì che ci sono delle masterclass, ha detto che ci si tratta l'esplorazione generale della Marchi Docca. Abbiamo fatto i verticali delle varie case, ci hanno portato a conoscere da Positano, esatto, la verticale di Villa Dora, oggi avremo la verticale di Marisa Cuomo che è una delle più aspettate, diciamo. Nel capodanno bizantino, Marisa Cuomo è stata incoronata come magister a Martimano. Questa gentile signora che si è rimboccata le maniche e dà un'agricoltura speciale e particolare, quindi non solo la imprenditoria, un premio alla imprenditoria, alla managerialità e al prodotto stesso che sta riscontrando l'ultimo premio a Colonia per quanto riguarda il vino eccezionale. Non abbiamo frequentato il masterclass perché conosciamo le cantine quasi casa per casa. Intanto ve ne facciamo i nostri complimenti signora Giovanna e proseguiamo nella discesa, nell'esplorazione. Grazie, grazie a tutti.